Giuseppe, la Catania c'entra la seconda vittoria consecutiva con una dedica spontanea. Beh, è chiaro che noi tutti ci tenevamo particolarmente oggi a dedicare questa vittoria a Stefania. Io non ho avuto il piacere di conoscerla di persona, però si percepisce quanto fosse speciale e cosa rappresentasse per la città di Catania e per il Catania Calcio, quindi la dedica principalmente va a lei. Sul piano calcistico è stata una prestazione increscendo da parte della formazione rossa azzurra e la settima vittoria in trasferta, la quattordicesima stagionale e la sensazione è che questo Catania stia prendendo gradualmente piena consapevolezza di sé. No, sapevamo di affrontare una partita complicata, la Calese al di là della posizione classifica per me ha dei valori superiori e probabilmente oggi si giocava tanto in ottica salvezza, però siamo stati bravi soprattutto pazienti nell'aspettare l'episodio che poi indirizzasse la partita, fortunatamente da lì in poi l'abbiamo gestita secondo me con grande calma, con grande qualità anche di gioco, quindi siamo contenti, dobbiamo continuare così perché la strada è quella giusta. Quanta astuzia da difensore che sa doveva spiovere la palla, c'è nel gol da centravanti vero che è realizzato? No, è stato sicuramente un bel gol, però molto merito va a Jacopo dall'olio con esso veramente un cioccolatino, poi io stavolta sono riuscito a metterla dentro e sono contento anche perché, soprattutto perché è stato il gol che poi ha sbloccato una partita, ripeto, complicata e poi ha indirizzato la partita e siamo tutti contenti. Il Catania è una squadra in fiducia adesso? Sicuramente siamo in fiducia, siamo consapevoli di essere una squadra forte, purtroppo abbiamo attraversato un periodo negativo e questo probabilmente ha tolto un po' di certezze, un po' di consapevolezza, però in questi casi paga l'allenatore e ovviamente a me dispiace perché comunque il mister Raffaele ha dato la possibilità di vivere un'esperienza qui a Catania e gliene sarò per sempre grato. Detto questo, adesso siamo convinti di esserci rimessi in carreggiato, dobbiamo semplicemente continuare a fare quello che stiamo facendo con grande convinzione, con grande umiltà, però con tantissima fame, che poi è la cosa che fa la differenza. Quando si vince non ci si fa mai troppo caso, però un clean sheet è sempre una bella soddisfazione per la difesa e per la squadra. No, no, è molto importante. Tutti i campionati, ma in generale anche la Serie C sappiamo che avere una solidità difensiva è basilare per una squadra che ambisce poi a un percorso importante come la nostra, quindi dobbiamo insistere, dobbiamo continuare a lavorare con il sorriso, con spensieratezza, ma consapevoli comunque che abbiamo davanti a noi un percorso importante e ci auguriamo tutti di arrivare in fondo. Tantissimi stimoli, pochi divieti con i posti da Mr. Baldini, uno di questi è quello di guardare la classifica, ma la tua idea sulle potenzialità del Catania in questo momento della stagione? Il Catania è una squadra forte, lo dico io, lo dicono i valori di questa squadra. Ripeto, abbiamo purtroppo avuto un periodo di flessione coinciso con dei risultati non all'altezza della qualità della nostra squadra, ma adesso mancano poche partite per prepararci al meglio di quello che poi in realtà è il nostro obiettivo primario, quello di arrivare ai play-off in una migliore condizione possibile, sia fisica che mentale, che di convinzione, perché poi gli spareggi sono talmente imprevedibili che conta tanto come ci si arriva, quindi noi dobbiamo allenarci a giocare partite di questo spessore anche per avere ulteriore consapevolezza della nostra forza. Grazie.